allora ho trovato la carne secca originale questa sì che è carne secca cazzo è carne ed è secca molto secca aspetta che la masticchi tanto si si questo è tipo cioè te la mangi lì e tenete la metti in bocca lì in fianco mastichi 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 fa una puzza ragazzi ma una puzza ha un sapore strano l'odore sembra il cibo tartarughe più o meno il cibo delle tartarughe sembra l'odore che fa però vabbè la mangi tutta tienila lì bravo che sembra di avere delle tartarughe e un acquario in camera